Start, 2, 1, missione e liftoff! La base dei giochi coreani, la base dei giochi di questo tipo è una delle funzioni del gioco per cui tanti lo sconsigliano e che poi possono essere questi giochi giudicati dei succhi a soldi. In pratica quello che spinge ad andare avanti a farmare materiali è in pratica il potenziamento del proprio equipaggiamento, come vi avevo detto dobbiamo potenziare il nostro equipaggiamento, questo è un equipaggiamento, questo che vedete nello specifico il Tuvala è della Season, dei personaggi Season che praticamente poi convertite una volta che uscite dalla Season, quindi sono oggetti che non potete vendere, non potete comprare all'asta ma dovete craftare voi ed è il modo giusto per imparare come funzionano queste meccaniche. Il gioco nel corso delle quest tantissime, non lunghe ma tante, vi forniscono una quantità immonda di materiali per poterlo fare e quindi apprendete anche le meccaniche. Quello che voglio farvi vedere ora è il potenziamento di un oggetto ma prima di tutto uno dei personaggi principali di questa Season è Fugar e Fugar vi consente di scambiare delle pietre che poi ottenete per vari oggetti che vi consentono di migliorare il potenziamento dell'equipaggiamento. Le possibilità sono tante, così come anche credo questo personaggio qua, Avelia, che è Bartali, credo consenta anche lui di fare qualcosina, non mi ricordo male, no, lui no, sono diversi, adesso devo un attimino capire. Comunque, quello che vi voglio far vedere è come funziona il potenziamento. Non è una guida nel senso che sicuramente, lo so per certo, non sto facendo nel modo corretto, però ecco, in pratica una delle meccaniche di potenziamento più toste è quella del potenziamento dei monili, quindi degli orecchini, degli anelli, della cintura e della collana. Questi sono dei potenziamenti che non vi danneggiano l'oggetto se fallite ma ve lo distruggono direttamente. Quindi quello che voi dovete fare è andare a comprare dal fabbro ottenendo, adesso vi faccio vedere, una delle meccaniche. Quando voi avete, vabbè, in questo caso io posso andare a prendere questi oggetti e fonderli. Adesso vi faccio vedere, gli dico di fondere tutti gli oggetti. Io ho scambiato i Tuvala Ore, che sono, i pezzi sono Tuvala, li craftate con i Tuvala Ore, quindi le parti metalliche chiamate Tuvala, e li scambiate dal fabbro con i pezzi di armatura che vi interessano e quelli poi li andate a potenziare. Adesso io li sto fondendo andando a riottenere nuovamente i materiali che avevo usato in modo che andiamo a potenziare altro. Io non me la son sentita, una volta potenziati questi due, gli orecchini a 4, così come i due anelli a 3, non me la son sentita di andare avanti perché l'andare avanti mi porterebbe alla distruzione del pezzo. Ma esistono delle pietre che vi consentono il passaggio al 100% da un livello all'altro, e quindi magari il 4 me lo tengo per quando ho quelle pietre lì. Le pietre vengono regalate anche giornalmente con il bonus login, vedete che poi regalano varie cose, e inizio con lo spiegarvi che le cronstone sono quelle che vi permettono di conservare il pezzo qualora voi doveste fallire. Una delle basi del RNG, quindi il random, insomma queste meccaniche qui di potenziamento completamente casuali, è il fatto di non farvi mai ingannare se la percentuale è 70-80% e vi fa dire ce la faccio, perché non è vero. Il 70-80% è come un 50% con queste meccaniche, e quindi rischiate che lo so anche con quelle percentuali. Spesso anche col 90%, ma siete abbastanza relativamente tranquilli. Però, vabbè, intanto vedete che sto recuperando ogni singolo pezzo, ci metterò un attimino, quindi vi lascio un attimino in attesa, così finiamo. Ok, ho finito. Adesso, ah, vi insegno una cosa rapidissima. Se vi serve un oggetto e non sapete se l'avete, fate CTRL-F, come il finder sul browser, e scrivete, non lo so, voglio vedere, cronstone, e mi dice dove. Ne ho nell'inventario di Elwyn, il personaggio che ho online, ne ho 141 nell'inventario di Indy, quindi io clicco e uso una delle mie cameriere, in pratica, che ne ho due al momento, per farmele portare. E poi ne ho nell'elenco dei premi del Black Spirit nella cassaforte. Che cos'è la cassaforte? Qui vanno tutti gli oggetti che noi riceviamo ogni giorno per il login, così come i premi che noi vinciamo andando a fare i lanci giornalieri di dado in questo gioco. Gioco parecchio lento come caricamento, perché è come se caricasse una pagina esterna, praticamente voi potete tirare ogni 30 minuti per tre volte in un giorno e tirate il dado. Il dado, se fa un numero doppio, quindi un doppio 2, potete tirare un'altra volta e così andate avanti. Questo è un tabellone speciale che mi dà pietre importanti. Vedete, ho fatto 6, io ho preso 10 crownstone, tra mezz'ora ho un altro dado, quindi se io adesso vado nella safe e vedo, dovrei avere le 32 che ho visto prima più le 10 che ho vinto adesso o le ha messe tutte insieme, non lo so, credo le abbia messe tutte insieme e comunque le ho prese. Che cosa sono le crownstone? Ci consentono di potenziare senza rischi, relativi rischi. Allora, quello che noi facciamo ora, abbiamo fuso tutto, proviamo a potenziare gli anelli, quindi andiamo agli anelli, andiamo a fare exchange, dobbiamo avere nello zaino, ovviamente i tuvala or, facciamo gli anelli. Gli anelli io ne compro, ne prendo 20. scambio 100 tuvala per gli anelli e ho gli anelli. A questo punto posso apparire con la virgola il black spirit, andare su enhance, quindi potenzia, e prendo l'anello. L'anello ha una funzione particolare, cioè ha un potenziamento particolare, non usa delle pietre, ma usa una coppia di se stesso, quindi potete andare a bruciarli entrambi se fallite in pratica. Usando le crownstone non abbiamo la possibilità al punto di bruciarlo, ma non ha senso, poi aumentano esponenzialmente quelli che consumano. Comunque abbiamo il 70%, io skip animation, quindi salto l'animazione e lo potenzio e vedete che è a livello 1. Adesso abbiamo il 55% e se non vogliamo rischiare facciamo 20%, io potenzio ancora e brucio tutto, quindi ne prendo un altro, potenzio a livello 1 potenzio, perdo e questa è la meccanica che chiamano succhi e soldi. Perché? Perché si è spinti, magari dopo aver tentato di potenziare un pezzo dal 4 al 5 e lo bruciamo, ci ritroviamo con una potenza e una difesa inferiore e vogliamo recuperare e qui diventa una sorta di gioco d'azzardo. 2, 3, adesso ho l'anello del livello che ho anche già equipaggiato, posso permettermi magari di rischiare usando le cronestone, le cronestone mi consentono di non bruciare il pezzo, ma non è finita qui perché tutte le, queste caselli, queste pergamene viola qui, che uno dice, cosa servono? Ne ho mille, e non ne avete mai abbastanza perché usandole potete andare a scegliere, vanno da più 10 a più 140, io uso questa, la più 50, la più 50 mi dà un 35% aggiuntivo, quindi vado a 70, ok, più la cronestone, più ho le valx, che sono quelle pietre dal fuoco, con questa fiammella qui, non so adesso, oh no, cry è un tipo che urla in mezzo al fuoco, le uso, posso usarne fino a 10, e aumentare la percentuale del 7%, quindi ne uso 10, le uso, e posso incantare, a questo punto ho 77% per arrivare a livello 4, potenzio, a questo punto mi dice, sei sicuro, io metto la percentuale che c'è scritta qui, in current enhancement chance, metto 60, e vado, e vedete che ho fallito, nonostante tutto ho fallito, col 77%, a questo punto io non ho bruciato le risorse, credo, ma ho bruciato le cronestone, perché ovviamente mi ha salvato il pezzo, lo faccio di nuovo, più si sbaglia, più c'è la possibilità di farcela alla volta dopo, in teoria, faccio 60 ancora, e vado a livello 4, a questo punto cosa faccio, rischio o non rischio, e questo alla base del potenziamento, decido di non rischiare, apro il mio inventario, e vado a sostituire uno degli anelli col 4, allora adesso io monto, vi faccio vedere, monto il livello col tarea, ho 228 di AP e 305, io tolgo 228, 305 abbiamo detto, 230 di AP, 305 è rimasto invariato, perché potenzia solo la potenza d'attacco, 300, 230 a 228, aumentato di più 2, infatti vedete 10 e qua 12 di AP, scritto lì in alto, cosa cambia, è che se abbiamo l'AP più alto, possiamo magari pensare di andare a fare delle zone dove c'è un AP richiesto, dove c'è un loot maggiore, c'è un guadagno maggiore, e questo ci spinge a migliorare, diventare sempre più potenti, per poter andare in nuove zone, a questo punto, cosa facciamo, proviamo quell'anello di prima, così, senza, senza rischi, oppure, ci sono, delle pietre, che adesso mi sa che non abbiamo, che possiamo andare ad utilizzare per, non ce le da selezionabili, ci sono delle pietre che ci consentono, qualora noi avessimo un livello 4, un livello 3, di potenziare al 100% di possibilità, ora, usiamo questo, decido di bruciare le ultime che erano stonari master, senza rischiare, magari usiamo un'altra di queste, le sto buttando, perché poi alla fine se ne fanno, io ho pazienza, insomma, non spendo soldi, quindi vado tranquillo e uso anche le ultime cron, le crai che ho, 77, digito 60, la cifra scritta qua sotto, e ce la faccio, a questo punto, a questo punto, cosa faccio, mi brucio, cioè, mi monto questo, ottengo un 2 ap aggiuntivi o tento di portarlo al 5, ecco, una delle cose importanti della season è che voi dovete avere, per poter, una volta usciti dalla season, cioè usciti alla fine o volontariamente prima, dovreste avere tutto a 5, perché una volta a 5, il pezzo Tuvala viene convertito in un'armatura, non so di che tipo, però viene convertita in un pezzo normale, a regola, in un season, se non è a 5, no, quindi avrete un pezzo banalissimo, normalissimo, non da potenziare, come pezzo iniziale che andrete a prendervi e quindi sarete meno performanti, quindi l'idea sarebbe quella di avere tutto a 5, come ho fatto, e l'ho fatto agilmente, giochicchiando ogni tanto, quindi, una volta che conoscete le basi del potenziamento, lo fate. Allora, io adesso potrei montare questo anello, togliere l'anello da qui e mettermi questo, e vado a 232. sto buttando via un po' di materiale in effetti, però, chi se ne frega, potenziamento, ora vado qui, potenzio questo, gli do un boost con questo, non ho più cronestone, tecnicamente ne ho solo 7, quindi lo vado a bruciare, probabilmente, uso le ultime cron, e vado a 76, potenzio, scrivo 59, e ce la faccio. A questo punto, calcolate che potete farne anche un business, nel senso che se non siete in season, e potenziate pezzi veri, diciamo, non della season, questi pezzi cambiano di valore per poterli vendere all'asta, di svariate centinaia di milioni o miliardi, quindi, potete magari avere la voglia di mettervi lì, farmare pietre, così, e poi potenziate i pezzi, li vendete all'asta e fate i soldi così, oppure, al contrario, non passate da questa meccanica, ma vi farmate soldi a mostri o facendo varie cose, e li comprate direttamente già fatti, e vi fate il vostro set solo pagando. Quindi, ricapitolando, a questo punto voglio portare il pezzo da tetta a penna, quindi, al livello massimo del mio anello. Vi sto facendo vedere questi, perché sono i più difficili. Quindi, Advice of Valks, vado a prenderlo, faccio un più 28, vado a 56, uso, no, perché non ne ho più, mannaggia me, a questo punto, voglio vedere se ho delle cry da qualche parte. Devo cry, vediamo, le pietrine rosse, Valks cry, ne ho 40, dall'inventario di un altro personaggio, uso, ogni 40 minuti, potete riutilizzare il vostro, la vostra battler o maid, la cameriera, la maggior doma, insomma, per portarvi, farvi portare le cose. Vado qua, e posso usarle, adesso me le sono trasferite, 10, quindi, un altro 5%, abbiamo il 61, ma, non sono ancora contento, voglio vedere se ho altre cronestone per non rischiare eccessivamente, quindi, ctrl F, cronestone, non ne ho, no, devo fare lo spazio, giustamente, tra i due, perché, se no, ok, elowen, ne ho 7, no, non ne ho altre, da nessuna parte, quindi, sono spacciato, proviamo, proviamo, enhancement, è un rischio, ci si può sentire male, e lì si entra in un brutto giro, di spese, quindi no, buy to win, scusate, pay to win, può essere, per questa meccanica qui, ma, se non fate i pvp, non mi interessa, vado, 5 pen, un culo pazzesco, devo dire, ok, non lo possiamo più potenziare, ma questo pezzo, questo pezzo è pronto, poi per la fine della season, quindi io lo scambio, e ho il pezzo, 234, ora, fonderò questi, questi qui per riottenere, dei tuvala, ora, per poter scambiare con altri pezzi, ma, al momento vi faccio vedere, un pezzo, vi faccio vedere questo, ne prendo, no, ne prendo, 5, dai, 5, e vediamo come funziona, la meccanica dell'altro, dell'elmetto, allora, praticamente, questo, è una meccanica un po' diversa, tutto quello che non è accessorius, chiamato così, perché sono quelli con quella meccanica particolare, tutto l' resto è chiamato gear, e infatti, se io vado a potenziare il gear, non consumo, il suo gemello, ma consumo queste pietre, e anche qui, credetemi, ve ne daranno, una squintalata, io purtroppo ho buttato via delle pietre beginner, ci sono delle pietre tonde piccoline, e le potete scambiare per queste, ed è un peccato, le ho buttate via tantissime, non lo sapevo, si sbaglia, quindi voglio evitare che sbagliate anche voi, potenzio, vedete che non ha il numero romano dell'1, il 2, il 3, il 4, come in questo caso, perché? perché dovete arrivare al 100%, eh, scusate, al 100%, dovete arrivare al più 15, una volta più 15 diventa, per i, quindi il numero romano 1, il 2, il 3, il 3, il tetra, e il 4, e il pen, e il 5, quindi, più potenzio, vado avanti, 100%, tutto questo è abbastanza semplice, vedete, qua inizia già a cambiare, cosa succede se sbagliate? Se sbagliate, la durability del pezzo scende a 0, scende di 5, quando arriva a 0, non lo potete usare, e per ripristinarlo, non vi basta andare dal, fabbaro, perché non diminuisce la durability, ma il massimo della durability, quindi, se arriva a 0, a 0 di massimo, che non potete riparare, e vi serviranno altri oggetti, che anche quelli, ce ne sono pochi, insomma, e dovete fare attenzione, comunque, andiamo avanti, vedete, 6, 7, 8, fallito, ho perso, sono a 95 di durability, 9, 10, fallisco, fallisco, 20%, a questo punto, posso pensare di andare, magari, a potenziare un po', adesso le uso, tanto queste qui, non mi interessa, lo faccio a scopo di video, ho un potenziamento, 80, devo mettere anche qui, 50, e ho fallito, non ho le cronstone da usare, però aumenta, se sbaglio aumenta, la volta dopo è più alta, quindi metto 51, che è cambiato, sono più 12, sto bruciando durability da far paura, ok, adesso ho solo un 10% di farcela, fallisco, vedete che sale all'11, 12, 13, sto diminuendo tantissimo la durability, durability del pezzo, oltre che le pietre, perché le pietre le sto consumando, durability troppo bassa, 20%, 20, infatti se io vado a vedere questo pezzo, questo pezzo adesso è più 13, rispetto al mio elmetto, che è pen, fa molto meno, fa quasi 30 punti meno di dp, però, di difesa, però, vedete che, ha 20 di durabilità, che è il minimo concesso, e l'altro invece, il pen, tu va, l'elmet, è a 70, ne ha passate anche lui, per arrivare a, a quel livello lì, dopodiché, ci sono delle pietre, ad esempio, che vi consentono, come questa, di potenziare il 100%, da pari a penna, quindi se io ho 5, o 4 di queste pietre, se io avessi questo a, non so, duo, o pari, usando la pietra, ho il 100% e passo direttamente, a livello successivo, quindi, ricapitolando, questo va dall'1 al 15, dal 15 poi, diventa pari, quindi il numero, passano dai numeri normali, arabi, al numero romano, quindi diventa questo, e poi da qui, diventa più difficile ancora, potenziarli, ma se avete delle pietre giuste, potete fare questo, questa è la meccanica, che funziona così, per, questa del più, dal più 1 al più 15, poi dal pri al tetta, per tutte le armature, quindi, l'elmetto, l'armatura, i, le scarpe, i guanti, e le armi, usano pietre simili, in questo caso, ma, vabbè, questo è un altro discorso ancora, e se volete, lo andiamo a vedere, tutto quello che invece è, cintura, collana, orecchini, e anelli, usano l'or gemello, quindi in questo caso, io ho fatto questo, vabbè, adesso, ho fatto delle prove, ho bruciato delle pietre, però, vabbè, adesso poi, le rifondo, io tengo le tuvala ora, e va bene, le rimpiegherò, per potenziare, gli anelli, andare avanti con, anzi, è un anello a 4, magari provo a portarlo a penna, anche lui, così almeno, sto più tranquillo, non so perché sono tornato dal fabbro, ma va bene, enhancement, scusate, fatemi controllare solo per sicurezza, 4, ho un 4 anche lì, quindi lo facciamo, ok, non ho, cronestone, ho, non ho, ho già montato qualcosina qui, sì, e non ho dei paracadute, per proteggermi, da questa percentuale, in fausta, quindi, andiamo qua, vabbè, c'è un sacco di cose, che non conosco ancora, bruciato, niente, perso, il motivo per cui vi escono tutte quelle frasi, a quando entrate in gioco, che io ho disabilitato dalle impostazioni, tipo, il tizio ha ottenuto pen, tizio ha fallito, sono tutte queste cose, probabilmente uno che ha iniziato a giocare adesso, gli sono uscito anch'io, che ho fallito questo tiro, e lo potete eliminare, insomma, per, vabbè, comunque, sono mediamente soddisfatto, perché ho portato comunque, tutto abbastanza alto, una volta che riuscirò a finire questo, questo, e questo, finisco la season, esco, e riesco a finire, però questa è la meccanica, forse, più discussa, di tutto quello che è l'RNG, quindi, la casualità nel potenziamento dell'equipaggiamento, ovviamente questi sono dei pezzi, voi non inizierete con il Tuvala, ma inizierete con il Naru, e il Naru ve lo danno subito le prime quest, vi danno la Gerian, mi pare poi il Naru, ed è la prima che imparate a fare, una volta che il Naru, adesso ve lo faccio vedere qua, credo sia qui, no, non mi ricordo più dove cavolo lo dà, comunque c'è questo Naru, i pezzi Naru, ve li danno, li potenziate fino al punteggio massimo, e poi ve li converte in Tuvala, nel momento in cui avete preso questi pezzi qui, Tuvala, li potete scambiare con i Tuvala Ore, cioè i Tuvala Ore li convertite in questi pezzi qui, per averne altri, quindi insomma la base, la progressione è abbastanza lineare e obbligatoria, però ecco, questo per rendervi l'idea di quello, di uno delle sfaccettature del gioco, ovviamente nel momento in cui io vado e mi faccio un personaggio che vuole farsi solo le life skill, quindi andare a minare, andare a coltivare, ci sono ben altri set, per dirvi, io ho comprato all'asta un per la caccia, questo, che è un hunting, un beginner matchlock, che non è un granché, però ha un potenziamento più 7, quindi lui, mi fa, costa 25 milioni sto pezzo, cioè se io adesso, l'ho preso meno, l'ho preso 22, era il più 6, l'ho potenziato più 7, e mi vale 25 milioni, ora, se io vado cliccando col destro sulle pietre qui, vediamo se posso farlo, non sono sicuro, sì, il mio, cosa qui, mi chiede, vabbè, le blackstone che le ho in cassaforte, adesso le ho nella banca, ma se lo potenziassi a più 7, a più 8, l'oggetto passa dal valore di 25 milioni, al valore di 28, quindi, però, per farvi capire che non so tutto, quindi non voglio fare dei tutorial, è che non so cosa succederebbe se io sbagliassi, magari lo perdo, magari mi diminuisce la durability, non lo so, credo anche che per poter vendere all'asta, dobbiate a ripristinare al 100% la durability di un oggetto, quindi è importante quello, vi faccio vedere un'ultima cosa, se io vado dal fabbro e volessi riportare il mio oggetto, il mio elmo, che abbiamo visto era un 70%, io al momento posso riparare quello che è consumato al suo massimale, quindi se il suo massimale è 80 e sono 78, lo riporto da 78 a 80, ma se voglio ripristinare la durability massima, mi serve prendere il pezzo danneggiato, gli artisan memory e queste altre pietre sotto, che non mi ricordo, ad esempio io voglio ripristinare questo, posso prendere questo, lo metto lì, mi servono dei tuvala ore, o delle altre pietre che adesso, fragment, artisan fragment forse, vabbè questo è l'artisan memory, non mi ricordo come si chiama, mannaggia, e l'ho messo qui e lo ripristiniamo, in questo caso ne consumiamo 52, e alziamo, usando l'artisan memory andiamo a potenziare l'oggetto, possiamo che non usarle, e praticamente continuiamo a ripristinare i punteggi, fino al massimo, quindi è un consumo continuo di materiali, che poi nel momento in cui finiscono, ovviamente non possiamo più giocare, magari se noi facciamo gli stupidi, e potenziamo il nostro equipaggiamento, bruciandoci tutti gli accessori, tutti gli anelli, tutte le collane, il nostro punteggio di api scende, e non possiamo più andare dove andavamo prima, a fare, a farmare oggetti e cose, e quindi quello potrebbe spingerci, a questo, ad andare a comprare, oggetti in gioco, questi per riparare, vedete, non ha senso, secondo me, è un gioco in cui alla base, dovete avere pazienza, entrate ogni giorno, vi fate le due cose, non avete da fare, da guardare un film, una serie tv, mettete il personaggio magari a pescare, e pescando ottiene comunque, degli oggetti anche rari, che vi danno dei soldi, anche dei milioni, quindi lo mettete lì, fate a pescare, disconnect, minimize to 3, e praticamente, lui va in finestra, in basso, ha minimizzato, come vi avevo già detto, e non consuma niente, quindi ragazzi, questo è, sono le basi, diciamo, del potenziamento, dell'equipaggiamento, ci sono tante altre cose, tipo adesso il gioco mi ha appena ricordato, che posso usare delle pergamene, per andare a aumentare, un gouge, un indicatore, di drop degli item, quindi voglio andare a fare mostri, mi prendo, la mia pergamena, mi potenzio l'esperienza, mi potenzio la percentuale, di droppare oggetti di valore, voglio farmi le life skill, voglio andare a farmi, una serata tranquilla, a tagliare alberi, a ottenere materiali, perché magari ho un obiettivo personale, di craftarmi qualcosa, da vendere, o per me che mi serve, o voglio mettere una catena di produzione, mi prendo, in primis, l'equipaggiamento, che magari mi sono fatto, per quella determinata skill, tipo voglio cucinare, prendo le abiti da cuoco, che magari si possono potenziare, anche quelli, mi prendo la pozione, che mi dà più esperienza, e mi prendo anche un potenziamento, dei drop, se vado a farmare oggetti invece, quindi le meccaniche di base sono queste, se volete, poi oltre a questo c'è tutta la storia, perché comunque la storia è abbastanza interessante, vi porta a esplorare vari luoghi, il discorso delle conoscenze, va approfondito, perché è tosto, perché ogni personaggio, vi può far apparendere, delle conoscenze, sui vari luoghi, che vi danno magari diritto a quest, vi danno diritto a delle ricette di crafting, e vi permettono di fare, conoscendo proprio singolarmente, le persone che sulla mappa vedete col punto di domanda, vi consentono di fare un minigioco, che è un chiamato Conversation, e praticamente sfrutta tutte le persone, che voi conoscete all'interno del villaggio, per questo minigioco, più ne conoscete, più ne potete usare all'interno di questo gioco, questo gioco vi aumenta l'amicizia col personaggio, in questo caso non serve, però ci sono magari delle quest, che vi chiedono qua, dice zero, quindi no, io ne ho uno, quindi se vi chiedesse, che so, 200 di amicizia con quel personaggio, per avere la quest, che magari vi dà un oggetto interessante, dovete farvi il minigioco, per aumentare l'amicizia con quel personaggio, e avere quella quest, quindi, le meccaniche sono tante, e possono fuorviare tanti di voi, per intanto io concludo qui, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa guida, di questo gioco, insomma sto cercando di facilitare un po' la vita a chi, come mi aveva scritto nei commenti, è intrigato dal gioco, ma non ci capisce nulla, le basi sono più o meno queste del season, ma sono comunque le basi anche del potenziamento, del equipaggiamento, ragazzi, fatemi sapere, alla prossima, e ciao ciao!